Quindi avvertiamo forte il compito, la responsabilità per contribuire a far voltare pagina alla politica, per segnare un prima e un dopo. Il Movimento 5 Stelle è nato e conserva intatta, anzi più forte di prima, l'aspirazione a cambiare la politica, non a farsi cambiare dalla politica. Quindi vogliamo dare un'assoluta scossa, una fortissima scossa. È il momento di fare pulizia, di fare tabula rasa. Oggi a Bari, qui in Puglia, vediamo dilagare purtroppo le erbacce anche della cattiva politica, dobbiamo estirparle, dobbiamo contribuire a un'opera di disinfestazione. Ci sono delle zone grigie, evidentemente, le inchieste sono eloquenti, i materiali sin qui accertati. Ovviamente con tutto il rispetto per i principi della nostra Costituzione che sottoscriviamo per intero. Noi siamo per tutte le garanzie costituzionali. Ma è evidente che i materiali sin qui acquisiti della cronaca giudiziaria ci confermano quello che è un po' purtroppo nell'aria in tanti territori. Cioè oggi ormai si sta estendendo una zona grigia, l'area della cattiva politica. Quando c'è questo non ci può essere il Movimento 5 Stelle. Ecco perché tutta questa realtà sotto i nostri occhi ci impone una scelta per il bene dei cittadini. Rinunciamo ai ruoli di governo, lasciamo i nostri posti in giunta, lasciamo, rimettiamo tutte le deleghe, comprese anche le deleghe che abbiamo nel Consiglio della Vicepresidenza.